Siete qui davanti anche voi per manifestare, scuola elementare in questo caso? Scuola elementare dell'IC di Beinasco. Decreto approvato, cosa ne pensa e soprattutto dove pensa che andrà a questo punto la protesta, se continuerà? Dove andrà la protesta potrebbe essere con il blocco degli scrutini, con il blocco dell'adozione dei testi, con il blocco delle uscite, delle gite didattiche, con un blocco che comunque intacchi sul piano economico, l'unica possibilità, visto che nella cultura non c'è interesse per nessuno.